Il PD napoletano si incontra in vista delle prossime elezioni comunali del capoluogo. In una riunione con Vincenzo Cuomo, Gianluca Daniele e Leonardo Impegno, Assunta da Taglione e Francesco Nicodemo, si è discusso di come cambiare la città e soprattutto di elezioni. La discussione sul candidato infatti è molto accesa tra i democratici, come spiega il parlamentare Leonardo Impegno. Sono venuto a parlare di centro storico, il Partito Democratico, la coalizione di centro-sinistra sta avviando un percorso e lo guarderemo con molta attenzione. Spero che riusciremo a dare davvero una svolta perché questa città ne ha bisogno. C'è una nuova classe dirigente in grado di poter governare bene e meglio questa città ed è diffusa. Dare l'idea che invece ci sia il deserto è sbagliato e ingeneroso. Bisogna darle l'opportunità. Io lavorerò per dare l'opportunità a una nuova cultura politica, lasciando alle nostre spalle quella vecchia che ha impedito che questa città si potesse trasformare. Napoli è la città che si è trasformata di meno rispetto a qualsiasi altra città d'Europa e il degrado è alle nostre calcagne. Il dibattito però è soprattutto incentrato sulla fatidica scelta primarie o candidato unitario, così come spiega Gianluca Daniele. Credo che le primarie siano la strada maestra, fanno parte dello statuto, cioè un percorso che vale per tutte le altre città. Anzi, quanto prima si formalizza questo percorso ci saranno meno discussioni. Ovviamente poi, siccome prevede lo statuto, se si riesce a trovare un nome autorevole, forte, unitario, penso che sia interesse di tutti e ovviamente in questo caso non è che contro le primarie ma anzi rafforza questo percorso.